Parte la fase 2 della pandemia da Covid-19 eppure ci sono delle urgenze diverse. Beh sì, io dico che non mi sono fermato nemmeno in malattia, per cui non mi fermo nemmeno adesso che comincio a stare meglio. La fase 2 porta con sé un sacco di danni, abbiamo un buco nero economico pazzesco, penso che tanta gente faccia fatica a ripartire, dobbiamo forse puntare tutti sulla solidarietà, sull'impegnarci per fare quello che possiamo, quello che siamo in grado di fare per aiutare gli altri. Il suo è un appello? Sì, il mio è un appello. Durante la mia malattia ho casualmente conosciuto una persona, cerco gli occhiali perché si appannano, un uomo del Senegal, un regolare in Italia da tanti anni, a cui un amico che mi vede sempre impegnato per cercare di aiutare gli altri aveva detto rivolgiti a Sergio Ascenzo, lui mi ha mandato un messaggio. Io ho fatto quello che potevo, con l'aiuto di altri siamo riusciti a mandargli un po' di spesa, poi ad entrare nel circuito della protezione civile, virtuoso, per avere dei pacchi di sostentamento. Ho conosciuto un uomo umile, un lavoratore che ha lavorato ormai da tanti anni in Italia, nel 2006 lascia il Senegal, cercando una vita migliore per sé e per la sua famiglia. Per più di dieci anni lui fa avanti e indietro, con la sua famiglia in Senegal, sua moglie giù, per cercare un futuro, per trovare un futuro per i suoi figli. Dopo dieci anni non ce la fa più e decide nel 2017 di far venire la famiglia e riunirsi finalmente. Ha tre stupendi bambini, ha fatto carpenteria metallica, ha lavorato in un maneggio, è disposto a fare qualunque cosa. 39 anni, una splendida famiglia, voglia di dignità, di sostenere il proprio nucleo familiare al minimo indispensabile. Dopo il buco nero del corona, il suo dottore di lavoro ha detto purtroppo non posso riassumerti, la crisi è grande, io non so che fare. E lui è da solo, con una moglie e tre figli, non sa che fare. Io vorrei che chiunque sia in grado di dargli un qualunque tipo di lavoro, lui è disposto a tutto. Diamo dignità a chi vuole darsi da fare e non vuole aspettare gli aiuti degli altri, come si dice, stando seduto a casa.